Sono state confermate dalla Cassazione e quindi divengono definitive le condanne che sono state inflitte in appello a cinque imputati, finiti sotto processo a conclusione dell'operazione denominata Plutone che ha smascherato il traffico di cocaina a Caltanissetta. Per Giuseppe Fonti, ex poliziotto in servizio alla questura di Caltanissetta, prima di essere arrestato e poi sospeso dal servizio, quattro anni, otto mesi e 13.777 euro di multa. Per Carmelo Russello, tre anni e 14.000 euro di multa. Per Umberto Niotta, un anno di reclusione e 2.000 euro di multa. Per Luigi Amico, tre anni e quattro mesi, oltre a 12.000 euro di multa. Per l'ex collaboratore di giustizia, Emanuele Puzzanghera, tre anni e 10.000 euro di multa. L'operazione Plutone venne portata a termine nel febbraio del 2009. 24 le persone arrestate alla polizia nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di cocaina coordinata dalla direzione di istituzione antimafia di Caltanissetta e condotta dalla squadra mobile. I provvedimenti furono eseguiti a Caltanissetta, Milano, Venezia e Palermo. L'indagine partì nel 2005 da accertamenti condotti dagli investigatori nisseni su una organizzazione criminale che gestiva lo spaccio e il traffico di cocaina a Caltanissetta. Grazie anche alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, emerse che l'organizzazione acquistava la cocaina a Milano e la trasportava in Sicilia, nascosta a bordo di automobili prese a noleggio.